Essere al Cosmoprof è un dovere e un obbligo. È un dovere perché è l'Italia che fa cosmesi ed è l'Italia che rappresenta in assoluto le marche migliori. Ed è un obbligo perché quando si compie 17 anni di azienda e 17 Cosmoprof dobbiamo arrivare al prossimo come minimo per essere maggiorenni. E poi siamo qua contenti anche di trovare un pubblico sempre più recettivo, un pubblico sempre più attento, un pubblico che non parla solo di estetica in termini di creme o di anti qualcosa ma sta sempre più attento al lifestyle. Infatti nei lanci che abbiamo fatto e che abbiamo presentato spicca tra tutti Skin Regiment. Skin Regiment è la linea che vuole parlare della longevità. Sappiamo che oramai la popolazione mondiale invecchia e noi vogliamo farla invecchiare bene sempre di più e quindi per cui crediamo che lo stile di vita abbinando prodotti cosmetici, alimentazione e un sano movimento dato in certi momenti della giornata possa rappresentare un modo migliore per arrivare il più possibile vicino ai 120 anni che è il traguardo che ci siamo posti. Lavoriamo usando degli integratori e quindi abbiamo preso in considerazione gli Omega 3 con l'Axtaxantina che è importante non tanto solo per lavorare su quello che può essere un bloccare i killer che creano i problemi come l'ossidazione, l'aglicazione eccetera ma anche lavorare su un problema che è conosciuto come l'infiammazione. Lavoriamo per esempio tenendo in considerazione anche la melantonina. In effetti la melantonina ha un ruolo fondamentale nel benessere dell'essere umano. Melantonina che generalmente se dovessimo dormire tutti quanti tra le 8 e le 6 di mattina raggiunge il suo apice. Ahimè qualche volta non è possibile, qualche volta si va letto un po' più tardi, qualche volta si eccede. Ebbene dando della melantonina attraverso il sistema sublinguale che abbiamo predisposto facilita comunque lo star bene e quindi il benessere delle persone. E poi ultimo ma non ultimo teniamo in considerazione che il metabolismo ha delle fasce orarie determinanti. Infatti non tutti sanno che la ginnastica in certi momenti della giornata ha una funzione, in altri ne ha un'altra. Pensate che allenarsi magari in una fascia oraria tra le 6 e le 9 di mattina aiuta a dimagrire. Mentre invece se mi alleno tra l'una e le 4 del pomeriggio la mia massa muscolare aumenta per esempio. E quindi siamo convinti che sempre di più da noi il pubblico si aspetta non risultati stile Lourdes ma si aspetta di avere delle soddisfazioni e soprattutto di avere un aiuto a stare bene in generale. Grazie a tutti.